Un libro per raccontare la Toscana vista con gli occhi di chi fa del volontariato una ragione di vita. Un libro che raccoglie i 753 progetti proposti dalle organizzazioni del terzo settore in Toscana negli ultimi dieci anni all'interno del bando percorsi di innovazioni e finanziati dalle fondazioni bancarie. Un libro curato da Elena Elia e presentato al convitto della calza di Firenze dal presidente del CESVOT Federico Gelli e dal numero uno delle fondazioni bancarie italiane Giuseppe Guzzetti. Una presentazione che è stata anche l'occasione per premiare i 71 progetti vincitori del bando 2013 ma anche per una riflessione generale sul futuro del terzo settore. Oggi di fatto nella sostanza molte delle nostre organizzazioni, delle nostre associazioni sostituiscono il pubblico in tanti settori, in tanti servizi e producono anche ricchezza, danno occupazione, danno lavoro. È l'unico settore nel paese che in questi ultimi cinque anni ha avuto un incremento dell'occupazione. Anche per questo la riforma del terzo settore che arriverà in Consiglio dei Ministri il 27 giugno dovrà rafforzare questo ruolo del terzo settore come stampella del welfare statale. Io credo che dobbiamo pensare a un welfare di comunità, cioè noi dobbiamo puntare a una dimensione di welfare sul territorio, sulla comunità. E il primo passo per creare questo welfare territoriale sarebbe, secondo Guzzetti, quello di far gestire all'associazione di volontariato una parte dei 60 miliardi destinati ogni anno alle categorie deboli e che oggi lo Stato affida soltanto all'Inps.